L'attesa mostra sul guercino alle porte, ma non solo, anche un progetto finalizzato al contrasto della crisi culturale tra i giovanissimi che inizia quando i ragazzi frequentano le scuole medie. Stiamo impostando un progetto che raccolga molte forze per cercare di trovare i luoghi e le forze per aggregare questi ragazzi che al pomeriggio abbiano la possibilità non solo di fare i compiti e farli dopo scuola, ma di poter discutere, di giocare, di avere degli accompagnatori che comunque li facciano crescere, li facciano discutere e non siano soltanto vicino a un telefonino. Questo è un progetto importantissimo, è già il dopo-guercino. Questo qui è veramente un progetto secondo me che ci impegnerà molto, ma su cui personalmente io credo molto, che non è il progetto dell'evento culturale, ma secondo me è un progetto culturale in sé. È l'annuncio fatto dal presidente della Fondazione di Piacenza Evigevano, Massimo Toscani, durante la puntata di Fuori Sacco andata in onda ieri sera. Dopo quella della settimana scorsa sullo sport, la trasmissione è stata interamente dedicata alla cultura e ha radunato in studio i principali portatori di interesse della città, chiamati a dare suggerimenti al futuro sindaco che uscirà dalle elezioni della prossima primavera. Non a caso il filone della trasmissione è chiamato fuori sacco per Piacenza. Ne è uscito un messaggio chiaro e univoco, un'amministrazione virtuosa deve avere la consapevolezza delle bellezze del proprio territorio. Insieme hanno di fatto stilato un manifesto con 11 punti chiari da proporre ai futuri amministratori. La puntata di Fuori Sacco andrà in replica venerdì alle 17.30 e alle 23, sabato alle 11 e alle 20.30, domenica alle 20.